Oggi vediamo insieme come rispondere bene alle domande dell'esame orale senza cadere nell'errore, nella trappola di pensare che esami iscritti orali siano uguali. Ci sono strategie diverse, oggi vediamo soprattutto, come ti ho detto, quelle per rispondere bene alla domande che sono poste a livello appunto orale. Ma prima di fare questo e ad entrarci in questo argomento, voglio ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. È facilissimo richiederlo, basta inserire il tuo nome e la tua mail nel link che trovi proprio qui sotto in descrizione. Proprio nella mail riceverai tutti i contenuti del corso. Sono spiegazioni pratiche, teoriche, un piano di studio, contenuti scaricabili e stampabili e tanto tanto altro. Provolo, non hai nulla da perdere, sicuramente ti può aiutare ed è gratuito. Tornando invece all'argomento del video di oggi, vediamo insieme la sigla e poi ti spiego come fare, quindi quali sono queste strategie, per rispondere bene alle domande nel caso di esami orali. Vediamo quindi insieme come gestire gli esami orali in modo particolare e come rispondere sempre bene, quindi in modo completo e corretto, alle domande. Dobbiamo seguire un ragionamento che spero tu possa integrare proprio nel modo in cui intendi la preparazione degli esami e soprattutto la preparazione specifica per gli esami orali, in cui è necessario saper esporre nel modo giusto. Ogni domanda che viene posta dal docente ha come oggetto un argomento centrale, appunto l'oggetto stesso della domanda. Quindi immagina di posizionare nella tua mente questo argomento centrale, appunto al centro di una rete. Adesso vediamo in che senso. Devi iniziare ad argomentare la risposta a partire da questo elemento centrale. Come puoi farlo? Per esempio fornendo una definizione o più di una definizione, se sono appunto più di uno, oppure puoi fare un esempio per fare capire subito al docente, o con una definizione o con un esempio, che sai perfettamente anzitutto inquadrare l'argomento centrale, quindi hai il punto di riferimento già ben definito. In funzione poi di questo potrai approfondire. Adesso vediamo in che senso. Quindi questa è la cosa importante. Il docente ti fa una domanda su un particolare argomento. Questo argomento è centrale per la domanda e quindi devi prima di tutto chiarire il fatto che sai di cosa stiamo parlando. Come lo fai? Dando una definizione, facendo un esempio e comunque dando informazioni corrette e utili su quel concetto. Fatto questo non devi ovviamente fermarti, altrimenti l'idea che passa è quella di uno studio nozionistico non sostanzioso. Quindi approfondisci con dei collegamenti diretti, tra cosa, tra l'argomento centrale e altri elementi importanti. Ovviamente non mi sto soffermando su una dimostrazione pratica, perché altrimenti sarebbe confusionario spiegare sia la parte del ragionamento sia la parte pratica, ma è tranquillamente oggetto di un altro video che va a completare e approfondire questo. Quindi, partendo da questo argomento centrale, immagina un cerchio più ampio in cui si inseriscono altri argomenti, non altrettanto centrali, collegati tra loro, per esempio collegamento A, B, C e D, e subito dopo aver iniziato la risposta spiegando l'argomento centrale, come abbiamo detto, con definizione, esempio e quant'altro, spostati verso il primo collegamento che ti viene in mente. Potrebbe essere, per esempio, il collegamento A. Ma non per forza, non deve esserci questa rigidità. Per esempio, potrebbe venirti in mente, passando dall'argomento centrale al collegamento B. Quindi un altro concetto importante che ti permette di approfondire e continuare a parlare, non fare scena muta. Oppure potrebbe essere il collegamento C, quello che ti viene in mente, o il collegamento D. Questo perché? Perché quando rispondiamo a delle domande, soprattutto all'esame orale, anche se abbiamo studiato benissimo, l'ansia del momento ci mette davanti la difficoltà di dover gestire questa situazione che, comunque, potrebbe farci dimenticare qualcosa. Quindi basta avere un collegamento per fare in modo che dall'argomento centrale possiamo spostarci e continuare a parlare. Ovviamente, se invece riesci a stare un po' più tranquillo o tranquilla, passa tra tutti i collegamenti uno alla volta. Quindi, dopo aver parlato dell'argomento centrale, passerà al collegamento A, poi al collegamento B, poi al collegamento C, poi al collegamento D. In questo modo ampli moltissimo l'argomento. E già, dopo aver definito l'argomento centrale e tutti questi collegamenti, il docente probabilmente ti fermerà per farti un'altra domanda. Però talvolta questo non avviene, perché ci sono degli argomenti centrali che sono così estesi, così ampi, da, diciamo, incontrare la necessità di aggiungere dei sottocollegamenti. Quindi noi consideriamo anche questo. Abbiamo un argomento centrale, abbiamo i collegamenti A, B, C e D, aggiungiamo un sottocollegamento, che chiamiamo 1, tanto per dare un numero chiarire. E quindi magari parlo dell'argomento centrale, mi collego al collegamento A e poi mi sposto al sottocollegamento 1 e poi al collegamento B. Poi aggiungo anche un sottocollegamento che chiamiamo numero 2, poi c'è un numero 3, un numero 4 e così via. Quindi qual è l'idea che, secondo me, è importantissimo che passi? Il fatto è che quando studiamo le informazioni non devono essere immaginate come se fossero in una catena, prima una, poi l'altra, prima una, poi l'altra e così via. Anche perché basta interrompere questa catena in un anello, quindi in un concetto, che dimentichiamo tutto quello che viene dopo. In questo modo invece ci possiamo spostare serenamente. Per cui se parto dall'argomento centrale A, vorrei andare al collegamento A ma non me lo ricordo, vado al collegamento B, passo per il sottocollegamento 1 e arrivo al collegamento A. Quindi, in un certo senso, faccio un giro più largo, ma che nel frattempo, oltre a dimostrare il fatto che continuo a parlare e non faccio scena muta, mi permette di avere qualche istante in più per ragionare e ricordare poi quello di cui voglio parlare. Quindi questo era quello che ti volevo spiegare nel video di oggi per farti capire come gestire gli esami orali, in cui è necessario parlare, non dobbiamo fare scena muta, dobbiamo avere un'idea molto chiara di che cosa dobbiamo dire e come organizzare le informazioni. Questo ci permette di rispondere bene, cioè in modo esaustivo e soprattutto in modo corretto. Hai dubbi, domande, hai bisogno di chiarimenti? Non farti nessun problema a scrivere nella sezione dei commenti o nei contatti che trovi in descrizione. Io ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Anche per questo trovi il link in descrizione. Ne approfitto per ringraziarti e ti aspetto con molto piacere nel video che uscirà domani. Grazie.